Proprio nei giorni in cui la Basilica della Salute emetta del pellegrinaggio annuale a ricordo della sconfitta di una delle tante pestilenze che ha colpito la città, un giovane trevigiano ha pensato bene di fare la pipì in un angolo dell'edificio. La polizia municipale però l'ha visto e quindi sanzionato per 3.000 euro. In occasione della festa la Basilica è raggiungibile con un apposito ponte su barche a scavalcare il Canal Grande, ma è anche attrezzata nelle vicinanze con bagni pubblici, aspetto di cui il trevigiano non si è minimamente interessato. Non è certo il primo caso in città dove spesso il malcostume la fa da padrone, nonostante le campagne di sensibilizzazione per il rispetto di una realtà che è monumentale in ogni sua pietra e che in questi ultimi anni ha visto le forze dell'ordine sempre più attente nel difenderne il decoro.